Il progetto Children Digital è un progetto che si fonda sull'ascolto attivo e sulla partecipazione dei minori e dei ragazzi care leavers che partecipano all'interno del progetto. Ascoltare attivamente i ragazzi e renderli partecipi significa valorizzare le loro esperienze e costruire dei percorsi che vadano direttamente ad accorciare il divario tra istituzioni e ragazzi, andando tutti quanti verso un'unica direzione, ovvero quella del costruire insieme ai ragazzi stessi percorsi e progetti che siano alla portata dei care leavers e child friendly. Crediamo infatti che co-costruire il percorso fin dalle prime fasi insieme ai ragazzi sia fondamentale affinché non siano solo meri fruitori dello strumento digitale costruito, bensì siano attori primari nella formazione e nella costituzione del lavoro. Alla conclusione del lavoro di focus group sono stati identificati due ragazzi per il Piemonte e due ragazzi per Cipro affinché fossero i rappresentanti del lavoro costituito e che fossero parte attiva dell'International Co-Design Team per confrontarsi direttamente e attivamente con i professionisti che andranno a sviluppare lo strumento digitale al fine di portare il punto di vista del gruppo e renderlo concretamente usufruibile all'interno di un dialogo attivo tra professionisti e ragazzi.